Bella raga, è il secondo giorno, la caccia al trap for continua, quindi occhio agli indizi che vi daranno sempre i miei amici, se vi siete persi gli indizi scorsi, tirate su, swipe up e andatevi a cercare. Ok raga, questo è l'ultimo giorno per la caccia al tesoro, la caccia al trap for, quindi beccate le ultime soffiate, bocca al lupo. Ok la valigetta è consegnata, qualcuno ce l'ha fatta e complimenti, bella lì Sinatra. Bella questo per te che hai trovato la valigetta e il telefono, se il capo è spaccato gli altri te la passano solo su care, grande. Money Gang Gang Money Gang Money Gang Gang Money Gang Gang